Oh, facci amare come siamo, se si affiuo e darci più, con le nostre filosie, perché questa vita spende, e che si è speso loro memore, come pure a far l'amore. Quanti vuoi da far l'amore? Piera, c'è il video. Ciao, ciao! Sono uomini soli per la sette d'avventura, perché hanno studiato da prete per trent'anni di gallera. Ma sono attenti, proprio. Ecco Roberto con la palla. E' un'altra parte, sì. O solo, perché sono dei messi, Dio delle città, dell'immensità. Se il figlio che ci sei, è piaciato come voi. Vediamo se il figlio, riparare queste donne, e cambiare un po' di noi, e cambiare un po' di noi. E' un po' di noi, e cambiare un po' di noi. Signore, vi provo Un po' di cu Grandi